Buonasera e bentornati in onda, sono le 20 e 38 minuti, sono solo a questo tavolo perché Davide Parenzo, ciao Davide, come va? Dopo aver condotto le danze a Rapallo, si è spostato verso Brescia e questa volta ci restituisce la partita e sta in collegamento. Ma noi ce la faremo, giusto? Ce la faremo Davide. Allora, gli ospiti in studio oggi sono Massimo Giannini, direttore della stampa, Luca Sofri, direttore del Post, in collegamento con noi Maddalena Oliva, vice direttrice del Fatto Quotidiano e con loro naturalmente facciamo tra un momento il punto della situazione politica nel mondo e in Italia. Un momento e siamo con voi. Buonasera, buonasera e bentornati in onda, sono le 20 e 44 minuti, buonasera Davide, saluto Davide Parenzo che è stato tutto il giorno a Rapallo nella riunione dei giovani industriali e adesso si trova in provincia di Brescia per un altro, terzo, quarto o quinto lavoro, tutto bene Davide? Davide, stai bene a posto, la salute, il fisico regge? Solo il secondo, solo il secondo. A posto, non ci fare preoccupare, ti aspettiamo qui domani. Le notizie di giornata come avete visto sono, diciamo, il fuoco è la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che con un salto indietro di 50 anni, diciamo semplificando, abolisce il diritto all'aborto. Non è esattamente così, ma insomma è quasi così, ne parleremo tra un momento, le ricadute che questo ha nella politica italiana, la situazione della politica italiana e avremo una coda di puntata in cui parleremo niente meno che del Watergate e di quello che significa oggi in Italia, come dire, lo Stato profondo, le relazioni invisibili tra poteri opachi dello Stato. Gli ospiti sono i più appropriati per parlare di tutto questo, abbiamo il direttore della stampa Massimo Giannini, grazie per essere con noi, il direttore del post Luca Soffri e la vice direttrice del Fatto Quotidiano Maddalena Oliva. Allora, cominciamo il giro da Massimo Giannini. Che cosa significa questa sentenza, che ripercussioni ha, parliamo dell'aborto, la sentenza americana sull'aborto? Ma guarda, c'è un risvolto specifico americano che a me personalmente non stupisce, perché l'America è da tempo un vago e lontano ricordo di quello che abbiamo conosciuto ed amato nella nostra giovinezza, e cioè la terra di frontiera, la patria delle conquiste, delle libertà civili. Quindi, purtroppo da tempo, ormai da alcuni anni a questa parte, è diventata il suo opposto, si sta trasformando nel suo opposto, dal tentato golpe del 6 gennaio 2021 a Capitol Hill, alla diffusione su scala ormai universale delle armi in mano anche agli adolescenti, alla conferma della pena di morte in diversi stati, fino ad arrivare a questa sentenza, che non fa altro che riflettere l'umore profondo di quel paese, che è polarizzato e drammaticamente spaccato a metà, sempre più spaccato a metà. Non per caso Donald Trump commenta quella sentenza dicendo, sostanzialmente la dico in maniera sorrentiniana, è stata la mano di Dio, a conferma del fatto di quanto i conservatori vicini alla religione cristiana, manipolandola, stanno trasformando qualunque tema politico in una battaglia ideologica. Quindi, l'America è questo, dobbiamo prenderne atto e sperare che nel tempo qualche anticorpo si riproduca. Che lezione possiamo trarne per il resto dell'Occidente e dell'Europa? Pillon ha detto, speriamo che la brezza attraversi l'oceano e arrivi fin da noi. A me pare che in Italia, per fortuna, almeno per adesso, possiamo respingerla questa brezza. Però vedo con qualche inquietudine che in Europa la tendenza ad aggredire conquiste e diritti acquisiti, l'aborto è uno di questi, una tragedia enorme, non va vissuta come un inno alla morte, lo sappiamo. Però non è più uno strumento anticoncezionale l'aborto. È un dramma delle donne che affrontano molto spesso in solitudine. Quindi va vista in questa chiave, dall'Ungheria alla Polonia, Malta lasciamola stare, però la tendenza a riportare indietro l'orologio della storia dei diritti è in atto. Bisogna respingerla con tutta la forza possibile. Abbiamo parlato di giudici della Corte, vi facciamo vedere questa immagine perché si parlava di donne, si parla di donne. Questa è la Corte Suprema degli Stati Uniti, è composta da nove magistrati che sono nominati dai presidenti e sono nominati a vita. Che cosa è successo? È successo che Trump ne ha nominati tre, è cambiata la maggioranza e quindi la leggendaria Ruth Bader Ginsburg, alla destra del teleschermo in questa immagine, quando è morta, nel 2020, era stata nominata dai democratici, una donna diciamo le cui iniziali sono sulle tazze della colazione, è stata sostituita da una giovane collega conservatrice. Questo ha cambiato gli equilibri, non solo questo, ma anche questo ha cambiato gli equilibri della Corte. Temico Neibarret ha votato infatti per far decadere la sentenza, la famosa sentenza Roe versus Wade, che stabiliva in grosso modo, mi scuso per le semplificazioni ma non siamo qui in grado di andare nel dettaglio, grosso modo però stabiliva con un precedente sulla privacy, fidandosi al principio della privacy, un principio costituzionale. Allora Maddalena Oliva, intanto abbiamo affiancato queste due donne, queste due giudice donne perché in effetti non basta dire donna, a volte c'è la retorica di una donna al comando, poi bisogna vedere invece chi è questa donna, in questo caso è stata una donna a votare contro. Una tua riflessione se vuoi su questo e se no comunque in generale sul senso di questa sentenza. Secondo me il tema è innanzitutto chiaramente la decisione che ha preso la Corte è una decisione diciamo devastante, non solo per le donne americane perché parliamo del fatto che può cambiare la vita diciamo 25 milioni di donne americane che non avranno più la possibilità di interrompere la gravidanza a seconda dello Stato dove vivono. Parliamo appunto del fatto che torneremo diciamo a dei tempi in cui chi potrà permetterselo andrà a fare il turismo sanitario negli Stati diciamo più liberali e chi invece non potrà permetterselo tornerà a fare gli aborti clandestini. E secondo me diciamo il tema è anche che come diceva in parte Giannini c'è una ripercussione gravissima anche su quella che è l'immagine, il futuro stesso dell'America che oltre ad essere un paese profondamente spaccato è anche in questo momento il baluardo dei nostri valori occidentali e che si mette per una decisione del genere al pari di paesi come l'Honduras, il Senegal, il Nicaragua con tutto rispetto per questi paesi. E secondo me poi l'altra cosa fondamentale da mettere a fuoco è il riverbero che questa decisione può avere in tutti gli altri paesi. Prima citavamo la Cologna e l'Ungheria però voglio dire io sull'Italia non sono molto d'accordo rispetto a quello che dice Giannini nel senso che secondo me il grande messaggio che ci dice questa situazione è una situazione che è stata costruita, il terreno è stato costruito negli ultimi 10-20 anni negli Stati Uniti, i movimenti pro-life, i cattolici conservatori, gli evangelici diciamo a differenza magari dei democratici, della sinistra e anche del movimento femminista che è vero che nel 2016 ha ripreso grande vicore con le marce a Washington e tutto però diciamo mentre la parte libera si era un po' seduta il fronte conservatore è andato avanti, ha preparato il terreno poi c'è stato Trump che passo dopo passo ha distrutto durante la sua presidenza, ha fatto una guerra sul corpo delle donne, ha distruggetto diciamo tutto quello che potevano essere i capisali del diritto americano sull'uguaglianza di genere, sulla libertà delle donne e infatti sappiamo che la grande paura dei movimenti in questo momento delle attiviste che si stanno ritrovando ogni giorno da ieri in realtà ma si erano date appuntamento ogni settimana davanti alla Corte Suprema è quello che adesso andranno a toccare il diritto al contraccettivo, si andranno a toccare i matrimoni gay, però secondo me il tema è il messaggio che questa situazione ci dice che i diritti non possono essere dati per scontato, cioè vanno divisi giorno per giorno e oltre alle contraposizioni più forti ci sono anche delle guerre sotterranee, cioè negli Stati Uniti c'è una guerra sotterranea rispetto al ruolo della femminilità che va avanti dall'11 settembre, si è poi andata a rinsaldare durante la pandemia e adesso anche con la guerra, le mogli, le madri stanno bene a casa a fare le security moms mentre gli uomini si preoccupano della sicurezza del paese e questo secondo me è una cosa su cui bisogna agire e che in parte c'è anche nel nostro paese. Certo, ti interrompo perché appunto siamo appena all'inizio, stavo per riprendere il filo del tuo ragionamento anche perché come abbiamo detto i giudici della Corte Costituzionale sono nominati a vita, i nuovi nominati hanno 50 anni e con un'aspettativa di vita mi auguro per loro molto lunga e quindi come dire, la giurisprudenza potrebbe cambiare non solo in materia di diritti delle donne ma in molte altre materie. Andiamo subito da Luca Sofri, ma prima David Parenzo, tu oggi hai intervistato tantissime persone e anche la manifestazione dei giovani industriali hai parlato, hai avuto modo di parlare anche con Giorgia Meloni. che è un po' il punto di caduta a cui tutti pensiamo quando parliamo di queste cose perché si dà per scontato un suo buon risultato elettorale e lei giustificatamente pensa che potrebbe addirittura guidare un governo. Pensi che ci sia questo rischio? Ne avete parlato? Cioè non il rischio che guidi il governo, il rischio che in Italia, non il rischio che guidi un governo non vorrei essere fraintesa, il rischio che in Italia si possa mettere in moto un meccanismo simile a quello degli Stati Uniti. Infatti mi sembra molto interessante ripartire da qui perché le ricadute italiane di questo dibattito le vediamo proprio in queste ore. Il fatto che Giorgia Meloni, che si candida a essere la leader del movimento conservatore in Italia si sia affrettata subito a dire ma non scherziamo, la 194 da noi non è in discussione. Questi temi è vero che sono entrati non solo nel dibattito politico ma sono entrati anche in Parlamento. La Lega sappiamo che ha candidato Pilon, che è stato il senatore Pilon, che è uno dei pochi che in questo momento siede nelle nostre istituzioni e che ha esultato per la sentenza della Corte Americana, però è una voce solitaria all'interno delle nostre istituzioni per ora. La Lega ha ospitato esponenti del movimento pro-life che però non hanno quella forza come ricordava giustamente Massimo Giannini prima che hanno invece negli Stati Uniti. Ma mi sembra interessante che la leader del partito conservatore, Giorgia Meloni, la prima cosa che ha detto è da noi la 194, diciamo al momento non è in discussione. Forse perché sa che l'elettorato cattolico è stato determinante quando ci fu il famoso referendum sull'aborto e quindi diciamo una situazione come quella americana forse da noi è meno probabile. Ma voglio dire soltanto una cosa e magari puoi chiederla anche direttamente a Luca Sofri. Noi spesso in Italia abbiamo parlato della politicizzazione della giustizia. Beh, negli Stati Uniti questo avviene. Cioè i giudici sono nominati dal Presidente, ma c'è di più. Addirittura i procuratori, quello che sarebbe da noi il pubblico ministero, viene eletto sulla base di un programma elettorale. Allora attenzione, questa è la più grande democrazia del mondo al quale noi tutti guardiamo, ma a un certo punto ne vediamo anche i limiti di questo. Da noi qualcuno qualche anno fa aveva proposto addirittura di eleggere i pubblici ministeri sulla base di un programma e quindi scardinare il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Ma quello che ci dovremmo chiedere oggi rispetto agli Stati Uniti è esattamente questo. Quei giudici interpretano davvero lo spirito del tempo? Perché se davvero quei giudici lo interpretano, dobbiamo chiederci che cosa sta avvenendo anche all'interno del Partito Repubblicano. Io non credo che in tutti gli Stati dove oggi governano i repubblicani ci sarà poi una negazione del diritto all'aborto. Non lo so, mi vorrei sbagliare, ma qualcosa di importante in quel Paese sta avvenendo. Davide, vogliamo sentire Luca? Luca soffri su questo, quello che credi. Mi sembra che ci siano tanti aspetti e tanti livelli diversi della cosa. La questione dell'eventuale elegibilità dei magistrati in Italia non è configurabile in un contesto come quello del sistema della giustizia e del diritto italiano. Ci sono tutta una serie di aspetti e di quadri in cui i paragoni non possono essere fatti. Io vorrei dire intanto una piccola cosa, che è vero, probabilmente è vero, e ne siamo rassicurati, che le condizioni in Europa e in Italia in particolare sono delle condizioni che in questo momento, diciamo, e dico in questo momento appunto per cautele, ma insomma speriamo per molto tempo non ci avvicinino alle condizioni di quello che è successo ieri negli Stati Uniti. Però in tutto questo, pur essendo un Paese in cui l'aborto è permesso, ha condizioni che conosciamo, ma condizioni che riconoscono tutta una serie di necessità in cui l'aborto debba essere permesso, è un Paese in cui ottenere nella pratica di abortire è molto difficile, è molto più difficile di quello che raccontano le leggi. È l'obiezione di coscienza dei medici. C'è un'obiezione di coscienza spesso pretestuosa, tra l'altro l'obiezione di coscienza, io faccio un esempio schietto, quando io ero ragazzo l'obiezione di coscienza era quella per cui non si faceva il militare, e non facendo il militare se ne pagavano delle conseguenze. Si andava persino in galera, oppure si faceva un servizio civile più lungo. Ma c'è qui il contrario. L'obiezione di coscienza di cui parliamo oggi è un'obiezione di coscienza che non paga nessun prezzo. No, no, anzi è premiante. Io ne discutevo oggi con una persona che sui social mi ha fatto notare questo appunto a proposito della polemica sull'aborto negli Stati Uniti, e sono andata a ricercare un pezzo che mi ricordavo di aver scritto sull'obiezione di coscienza in Veneto qualche tempo fa. L'avevo scritto 15 anni fa. Cioè 15 anni fa i medici in Veneto erano già obiettori perché se non lo eri finivi per fare solo quella pratica, non facevi carriera, il mondo cattolico era ostile, e questo un po' poi si è allargato a tutta Italia. Scusa, ti ho interrotto per dire che sono almeno 15 anni. Bisogna avere rispetto per le sincere obiezioni di coscienza. Si chiama obiezione di coscienza per qualche ragione, le abbiamo codificate, eccetera. Però, diciamo, sono delle obiezioni di coscienza su cui bisogna avere rispetto e che comportano delle violazioni della legge. E quindi, diciamo, il rispetto non deve diventare una legalizzazione della violazione della legge, che è quello che succede in questo momento in Italia. Certo, perché di fatto è molto difficile, di fatto è molto difficile anche in Italia. Questo è un argomento davvero molto interessante, però noi dobbiamo, Massimo Giannini, ti porto a rapallo, perché dobbiamo cambiare leggermente argomento e parlare di politica e andare a vedere che cosa è successo oggi a Rapallo con i giovani industriali. Vediamo il servizio di Ludovica Ciriello. Questa è Rapallo. L'incertezza c'è in maniera sciarpeggiante. E loro sono i giovani di Confindustria qui riuniti per parlare di futuro. A noi manca la politica vera, quella che attraverso il dialogo parlamentare individui gli obiettivi condivisi e li realizzi con l'azione di governo. La guerra pesa sull'economia e la politica deve dare risposte. Io devo portare mia figlia mi sembra la priorità e poi torna. A presentarsi davanti agli imprenditori sono i principali leader italiani. Buongiorno, buongiorno. Alle prese anche con il proprio futuro, i politici sono in grado di dare certezze. Io credo che, diciamo, l'instabilità della politica italiana sia uno dei nostri enormi problemi. Beh, in Italia quando non capita la scissione politica? Il nuovo nome della forza politica di Di Maio è Insieme per il futuro. Insieme per loro sarebbe già un passo avanti. Insieme a chi? Sicuramente non a me. Lascio a Letta, le polemiche, gli abbracci con Conte. Faccio fatica a immaginare lo stesso gruppo con Di Maio, con Toti, lei, cioè tante teste. Anch'io faccio fatica, molta fatica, però vedo che Di Maio ormai si è convertito su tutto. Magari si converte a Renzismo, dice lei. Io penso di no. Troppo. e spero di no. Io vedo tanti generali, poche truppe, tutte operazioni di palazzo. Cosa chiedete alla politica? Quali sono le vostre aspettative? Non possiamo più stare dietro la rincorsa della campagna elettorale. Secondo me si dovrebbe votare, che è una cosa molto più facile. Andiamo a sentire il Conte, ragazzi, non vorrei che ci rimanisse male. Per quanto ci riguarda, il governo continuerà ad essere sostenuto. Centro, non centro, destra, sinistra. gli accordi e le alleanze vengono sulla base delle cose che si vogliono fare. Insomma, tutti vogliono parlare di temi, ma la domanda è con chi? Eletta che fa finta a dar codo con Conte e la panza elettora, eh? Il nuovo Olivo con Conte e Di Maio. Arrivederci. E come fa? Come fa a tenerli insieme? Grazie mille. Allora, Massimo Giannini, ci vuole una bussola, eh? Serve una bussola. Tutti al centro tavola, l'esplosione delle stelle. Berlusconi torna in campo. Berlusconi, 86,9 anni, torna in campo e promette che arriverà al 20%. riporterà a parte della 20%. I confi industriali aprono le porte e stendono il tappeto rosso a Giorgia Meloni. Forse annusano una vittoria possibile. Sì, guarda, più che... Io prenderei il Malox o il Valium, non lo so, perché effettivamente il quadro politico è piuttosto sconfortante, no? Ora, vedremo come andrà domani questo ballottaggio, ma insomma, il risultato di questa tornata amministrativa ci consegna un panorama politico completamente destrutturato, polverizzato, nel quale naturalmente c'è un'inerzia, e l'inerzia è quella che dicevi tu un attimo fa, Giorgia Meloni è il primo partito, i sondaggi la premiano, stare all'opposizione in una fase così drammatica che ha incrociato prima la pandemia e poi la guerra, ovviamente consente un dividendo, è ovvio, al governo hai molti più problemi, all'opposizione puoi criticare senza assumerti una responsabilità. lei lo sta facendo in questa fase anche in maniera responsabile, bisogna dire, questa sua virata atlantista è persino inquietante per la solidità dell'ancoraggio ai valori degli Stati Uniti da una forza politica che insomma in passato non aveva proprio questa come stella polare. Però, ecco, detto questo, ciascuno dei partiti in campo a partire da Giorgia Meloni da sola non va da nessuna parte, è chiaro che c'è bisogno di alleanze, c'è bisogno di coalizioni. Quella di centrodestra ripeto, per inerzia a me sembra che ha più filo da tessere, più filo da tessere. Poi se sarà la Meloni, se sarà Saldini, chi sarà non lo so. Il problema è l'altra metà del campo perché... Sai, se ti posso interrompere, quella di centrodestra c'è, quella di centrodestra c'era, anzi, ci meravigliamo che continuano a non riuscire a rimettersi insieme. Esatto, è dall'altra parte che non c'è... Completo il ragionamento e poi vi lascio la parola, era proprio quello che stavo dicendo. Nell'altra metà del campo l'eclissi del Movimento 5 Stelle è ormai sotto gli occhi di tutti. Ma io lo dico anche a prescindere dall'ascissione di Di Maio che pure si è portato via un numero consistente di parlamentari. Ci si chiedeva spesso nei mesi scorsi perché era tutto già ampiamente prevedibile quante divisioni ha Di Maio. Beh, insomma, dopo il risultato delle elezioni al Quirinale dove ha dimostrato di avere poca forza stavolta invece insomma il suo gruppetto parlamentare è consistente. Ma al di là di questo il Movimento 5 Stelle ha perso io non ne faccio una questione di laboratorio politico e quindi di spostamenti interni all'interno dei gruppi parlamentari ne faccio una questione di presenza nel Paese. Non hanno più sindaci hanno quattro sindaci e hanno perso 7 milioni di voti dal 2018 ad oggi. Quindi è una forza politica che non esiste più. E qui letta che può fare. Massimo Giannini vogliamo sentire su questo Maldarena Oliva insomma questa scissione in qualche modo si è detto gli analisti politici hanno detto rafforza il governo Draghi perché di fatto la pattuglia che è andata con Di Maio a sostenere Draghi impedisce che Conte possa diciamo esercitare esercitare l'arma della contrattazione in qualche modo chiamiamola così tu che hai un osservatorio privilegiato sul Movimento 5 Stelle il tuo giornale se ne occupa molto scondividi questa analisi di Massimo Giannini? Allora credo in dubbio che il Movimento 5 Stelle stia affrontando una crisi probabilmente la crisi più pesante dal momento della sua fondazione c'è da chiedersi anche se rimarrà il Movimento 5 Stelle o se diventerà un'altra cosa devo dire che credo che diciamo ci sono una serie di fattori da mettere sul tavolo una serie di variabili uno il gradimento personale di conto che comunque continua a essere elevato nonostante diciamo tutte queste tutti questi questi movimenti e queste fibrillazioni ed è una variabile da mettere in considerazione due capire se diciamo seppur ridotto come diceva Giannini con dei consensi molto molto ridotti comunque avranno ancora diciamo qualcosa da dire all'elettorato secondo me l'operazione di Di Maio è un'operazione che è un'operazione molto io insomma su questo voglio essere un'operazione per me di palazzo è un spostamento una transumanza di ceto politico che fondamentalmente secondo me non verrà seguita non sposta quasi niente il corpo elettorale del Movimento 5 Stelle perché la verità è che il problema è che gli elettori del Movimento 5 Stelle probabilmente non avrebbero nemmeno più rivotato il Movimento 5 Stelle e quello che mi chiedo io è come diciamo per un elettore penso anche un attivista dei 5 Stelle dei primi anni quelli dei meet up ricordo ad esempio proprio Di Maio questa cosa voglio fotografare un aneddoto ricordo la prima volta in cui Di Maio venne in uno studio di un talk show parliamo di otto anni fa era un ragazzo veniva una puntata di Michele Santoro proprio sulla sette servizio pubblico a parlare della terra dei fuochi e fu il primo grillino a cui fu permesso diciamo di entrare nell'arena di un talk show ecco io mi chiedo quel ragazzo lì rispetto al ministro degli esteri oggi rispetto a quel politico che ha fondato questo gruppo parlamentare che cosa ha da dire cioè che cosa c'è in comune io credo che Di Maio appunto è stato anche molto netto ha detto uno non vale l'altro però credo anche che ci sia un problema del fatto che l'elettorato percepisce che questa operazione è un'operazione fondamentalmente finalizzata alla ricerca Maddalena ti interrompo un momento di un collegio sicuro per essere eletti un po' fredda per avere un collegio sicuro qual è la visione per avere un collegio sicuro allora Luca Sofri Maddalena Oliva dice un'operazione di palazzo è un'operazione di interesse è fatta per avere un collegio Di Maio lavora sull'interesse ha fatto il doppio salto mortale rispetto al tempo che ha appena ricordato mentre invece Conte gode di un grandissimo consenso popolare come commenti guarda commento intanto con un inciso linguistico che non servirà a niente perché operazione di palazzo ormai diciamo è un'espressione abusata e dispregiativa ma le operazioni di palazzo si fanno nella politica la politica è di palazzo in questo caso l'operazione non poteva che essere di palazzo nel momento in cui c'è un confronto all'interno di un gruppo parlamentare non stiamo parlando di andare a cercare i voti e di mobilitare le folle è per forza certo però perdonami Luca se ti interrompo perdonami solo un attimo prego stiamo parlando però del Movimento 5 Stelle non stiamo parlando né di Forza Italia né di Italia Viva certo stiamo parlando di una forza che doveva essere differente hai ragione e ti dico la seconda obiezione così linguistico-logica alle cose che stavi dicendo io non sono curioso di sapere cosa quel ragazzo abbia da dire al Di Maio di oggi attenzione diciamo mi dispiace doverlo dire ma c'è sempre bisogno di un premessismo in questo paese non ho veramente diciamo nessuna stima e aspettativa nemmeno per questo progetto di Di Maio non vorrei che il tuo giornale diciamo anche lateralmente in un'ultima riga mi includesse fra quelli che adesso rivalutano Di Maio no però appunto la cosa che sono curioso io non è tanto cosa aveva quel ragazzo da dire a Di Maio oggi ma cos'ha il Di Maio di oggi da dire a quel ragazzo cioè la cosa che è successo è che il Movimento 5 Stelle dentro la politica alcuni di loro hanno imparato e capito delle cose che non erano esattamente come se le immaginavano nella loro ingenuità iniziale che l'abbiano imparato e capito e poi cosa ne facciano non lo so e ripeto non ho grandi aspettative mi sembra tutto sommato una cosa di cui congratularsi non di rammaricarsi Davide ma io invece devo dirti ah scusami Davide no scusate voi ah scusami solo per dire che a Rapallo in questi due giorni abbiamo parlato esattamente di questo cioè i giovani industriali hanno invitato i sei leader quindi non c'è stato un applausometro particolarmente caldo per Giorgia Meloni si è chiesto ai leader di partito di confrontarsi sui temi e alla fine l'unico applauso vero che c'è stato è per la proposta che ha unito un po' tutti i leader delle forze politiche sulla riduzione del cuneo fiscale è l'unica cosa che ha messo d'accordo tutti sul resto la fotografia plastica di quello che è avvenuto in questi due giorni è che i partiti anche all'interno delle coalizioni sono tutti divisi con una battuta lo si è detto in quei due giorni non l'ho detto io ma lo dicevano anche alcuni giovani che erano lì ci sono il rischio che ci siano più partiti che elettori anche alle ultime elezioni si è visto che c'è una sorta disaffezione disaffezione dei cittadini ad andare a votare pur avendo votato e lo si farà nei prossimi giorni lo si farà domani per eleggere un sindaco che quindi come dire è il governo per eccellenza perché si elegge una persona che sarà quella e che governerà per tutta la legislatura a differenza di quello che facciamo per il Parlamento dove si vota qualcuno che poi non sarà più quello però non ci dimentichiamo nemmeno David che l'applausometro della platea degli industriali sono gli applausi degli industriali allora un conto è chi piace agli industriali più o meno un altro conto è chi piace al paese più o meno e le ragioni non sempre coincidono cioè non credo che tutto l'elettorato sia assimilabile alla platea degli industriali gli interessi sono diversi però voglio voltare pagina e parlare cioè voltare pagina diciamo accennare a un argomento che mi sta davvero molto a cuore Luca Soffri ha appena pubblicato un podcast molto ben fatto posso dirlo grazie veramente appassionante che si intitola Un furto di quarto ordine e lo trovate su tutte le piattaforme e racconta il Watergate prima del Watergate ora a parte il fatto che sono gli stessi anni Massimo della sentenza Roe vs Wade siamo gli anni 72-73 a parte il fatto che ho preso dal tuo podcast che Ruth Baden-Gisburg viveva nel palazzo del Watergate cioè la giudice col colletto di pizzo paladina delle donne che ha fatto tante sentenze che hanno fatto la storia degli Stati Uniti viveva in quel palazzo lei proprio lei ma l'argomento che per l'ultimo giro di domande vorrei toccare con voi è questo tutto questo deep state questo stato profondo queste persone poco intelligenti che si infiltrano e poi vengono scoperte che cercano di fare le scarpe agli altri ci dice qualcosa rispetto al modo in cui avviene nel dibattito pubblico nel nostro paese oggi esistono persone infiltrate pagate penso alle liste di proscrizione penso al Copasir che si occupa degli ospiti televisivi allora facciamo un momento di pausa e poi Maddalena Oliva Massimo Giannini e Luca Sofri allora Massimo Giannini anzi partiamo da Luca Sofri che è l'autore del podcast allora Luca Sofri che cosa ci dice quella storia di oggi? guarda ci dice tantissime cose ci dice la storia di Nixon e delle manovre di tutta la sua amministrazione e il suo entourage per coprire tra l'altro il furto di quart'ordine come lo chiamò diciamo il portavoce della Casa Bianca in cui non si è mai nemmeno capito come sia successa quella cosa lì il grosso guaio del Watergate è stato l'insabbiamento dopo il lavoro della Casa Bianca per nascondere quello che era successo e i suoi legami con le persone che erano entrate al Watergate ci dice intanto che quasi tutto è già successo cioè che un gruppo di quando le cose succedono sono già successe quasi sempre però per assonanza venendo alla politica italiana di oggi a me non voglio fare paragoni naturalmente però mi viene un dubbio sul fatto che queste persone che sai questi personaggi oscuri che non hai mai sentito nominare che improvvisamente emergono alle cronache che è quello che voleva portare Salvini in Russia che non li hai mai sentiti e alla fine chi sono questi? esiste un livello sotterraneo è successo nella storia di questo paese che delle persone a cui alcuni di noi che si ritengono normali e ragionevoli non avrebbero dato una lira e quando le storie emergono le troviamo veramente delle cose da commedia all'italiana poi in realtà diciamo i loro coinvolgimenti in cose molto pericolose si siano dimostrati che è un po' quello che è successo con il dibattito sui talk l'altra cosa scusami brevissimamente diciamo di assonanza delle cose del Watergate anzi di opposizione è che allora la Corte Suprema e lo è stato diciamo sia sul Raw vs Wade sia sul Watergate e su Nasti e di Nixon e lo è stato ancora per molto la Corte Suprema malgrado quello che diceva David della nomina politica era un'istituzione diciamo era forse rimasta e rimasta a lungo l'istituzione più autorevole e rispettata e apprezzata anche nella sua opposizione a poteri forti come quella della Casa Bianca la cosa che successe ieri è un disastro non solo per il contenuto e per le donne ma è un disastro per la Corte Suprema per la credibilità della Corte Suprema purtroppo Maddalena non abbiamo tempo di replicare ma voglio dare notizia del vostro incontro di lunedì il tuo giornale Il Fatto Quotidiano lo vediamo in grafica farà una riunione credo virtuale in streaming alle 21 la guerra alle idee ci sarai anche tu con un'intervista alla moglie di Assange e molti altri diciamo degli editorialisti del Fatto Quotidiano Norsini di Cesare Scanzi insomma e tanti altri Massimo una parola sul livello del dibattito politico italiano a questo proposito guarda scendo proprio le due cose in modo telegrafico c'è una questione che riguarda noi e il modo in cui la raccontiamo questa vicenda le liste di proscrizione sui giornali non si possono vedere è una cosa che a mio parere squalifica il nostro modo di fare informazioni quindi io non mi associerò mai a questo genere di incasellamento in funzione di quello che pensi o di quello che esprimi poi c'è un altro piano che è quello che riguarda invece le infiltrazioni di strutture organizzate magari eterodirette o finanziate dalla Russia che incidono nel nostro dibattito e nel nostro discorso pubblico soprattutto sul fronte digitale sul fronte dei social ecco quello è un campo del quale non ho conoscenze dirette e sul quale auspicherei un'attività seria dei servizi segreti quella che ho visto finora quella relazione resa pubblica dopo lo sculpo del Corriere della Sera mi fa ridere e mi fa anche un po' vergognare del mio paese perché quella non è una cosa seria grazie Massimo Giannini come il caso Watergate insegna le verità emergono anche con grande ritardo possono essere derubricate all'inizio come un furto di quart'ordine e poi invece erano il Watergate Davide non ti sentire triste noi ti aspettiamo qui anzi ci vediamo domani con i pennelli ci vediamo qui ma sei pieno di pennelli e di colori ci vediamo qui ti aspettiamo qui domani sera noi anche a voi il privilegio della vostra attenzione lo vorremmo anche domani alle 20 e 30 grazie grazie